Italiano Bello. Storie e letture in italiano. Sciarpetta Verde. Due. Mentre camminava nel bosco, Sciarpetta Verde ha pensato Voglio raccogliere qualche fungo per la nonna, così possiamo cucinare un bel risotto ai funghi. E così ha abbandonato il sentiero. Buongiorno bambina. Ha detto un gatto selvatico. Che cosa fai nel bosco tutta sola? Raccolgo dei funghi per la mia nonna malata e le porto anche un buon tè e la torta che ha fatto la mamma. Ha risposto Sciarpetta Verde. Una torta, eh? La nonna è davvero fortunata. Ha detto il gatto selvatico già con la cuolina in bocca. E dimmi, la nonna abita qui vicino? Alla fine del bosco. Ci vogliono ancora dieci minuti. E dimmi, la nonna è davvero fortunata.